Ace Jones, Walla Masterfield, Cliff Lane, vediamo un po' Barry Andrews, Jeremy... Che c'è Steph? Che fai? Sto cercando il mio nome ovviamente, mi sembra logico qui. Nelle stelle del cinema più grandi di sempre? Sì, da qualche parte ci deve essere per forza, mi sembra ovvio che vi vengano riconosciuti questi meriti. Quali meriti esattamente Ferre? Non hai mai fatto nulla per finire qui. Di essere la miglior picchiatrice di tutta Los Santos. Ma non si mettono qui nelle stelle del cinema le superstar della città, Ferre? Allora, Steph, ragioniamo un po'. Vieni, vieni, vieni. Sì, sì, e ti seguo, ti seguo, certo, certo, fammi capire. Allora, l'ingresso del cinema è qua. Chi devo picchiare per avere il mio nome qui fuori? Chi devo pestare, Steph? Non funziona così. Sì che funziona, funziona così. Le cose si ottengono pestando altre persone, è logico. E ragazzi, come va? Io sono Fieri, Niki. E sono sempre cazzo di come GTA V. E dopo tantissimo tempo, finalmente torniamo con un nuovo nascondino con le auto. È vero, è da tantissimo tempo che non ne preparavo uno, però finalmente mi son decisa. E questa volta, Steph, ho deciso di farlo nella zona del cinema. Ok. Perché sembra una zona molto bella e molto piena di nascondigli tra i palazzi. Mi piace, mi piace, mi piace. Allora, la prima cosa che ti chiedo è, chi è che si nasconde per primo a fare? Tu, vai, inaugura la mia mappa, vai. Va bene. Allora, quindi hai scelto la zona del cinema. E teoricamente, io l'ho vista giusto dall'alto un pochettino, ci sono tanti, tanti, tanti nascondigli. Sì, è bella, perché tra i vari palazzi è pieno di posti dove ti puoi infilare. Quindi non solo puoi far finta di essere un civile, ma ti puoi nascondere per davvero. È pieno, pieno di posti, Steph. Molto interessante. Ti voglio concentrato, oggi devi fare uno dei tuoi nascondigli bellissimi. Per iniziare questo ritorno del nascondino con le auto. Ok, penso di aver fatto. Allora, secondo me, non è formidabile, ok? Ma vado? Sì, sì, gli potrei dare una valutazione di 6,5 o 7. Però, secondo me, per iniziare è equo. Perché se ti faccio la cosa troppo difficile, poi ti arrabbi. Magari mi dai qualche pugno. Insomma, preferisco andarci piano oggi e stare tranquillo, guarda. Quindi, vediamo se riesci a trovarmi. Io ti dico già una cosa, ok? Che in tutto questo tempo in cui ho parlato, ti ho già visto una volta. Ok. Ok, allora. Però potrei essere tanto in alto. Io semplicemente ho svoltato l'angolo. Non è che ho fatto tutta questa grande strada. Quindi, teoricamente, sei in questa zona, per forza. Ok, una buonatria. Però hai detto anche che potresti essere in alto. Potrei, come potrei non esserlo. Quindi, non lo so, Fede. Guarda, io ti posso dire che ti ho visto già diverse volte. Eh, diverse. Ma non mi sembra giusto. Anche perché il tuo viola si riconosce facilmente, quindi spesso e volentieri. È fucsia. È viola. Non è viola. È la stessa cosa. Non sei colori, Steph. Dove sei di bello? Non ti vedo più. Mi hai incastrato in un vicolo. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Eccomi qua. Eccomi qua. Come fai ad incastrarti ogni volta? Tu mi vedi sempre in questo punto, di fronte a questa impalcatura. Quindi sei per forza in questa zona. Sei parcheggiato. Pensavo mi avessi trovato quando sei rimasta zitta. Sei parcheggiato. E invece, per fortuna, non mi ha visto. Però non ti stai muovendo. Perché se tu mi vedi sempre nello stesso punto, indica che non ti stai muovendo per forza di cose. Io ti posso dire che in tutto questo sono già passati 8-9 minuti, insomma. Ma non è vero. Sì, 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 guarda. Sono più o meno passati quei minuti, non stai andando molto bene. È perché mi hanno chiamato al telefono, quindi quello non si conta. Beh, due minutini. Siamo a sette, Fede. Comunque, sono troppi per questo nascondiglio, secondo me. Per di più, adesso non ti vedo più. Quindi ti sei anche... Perché ho fatto il giro. Ah. Voglio fare il giro e entrare nei vicoli dove, secondo me, tu sei. Stai cercando di scoprire il vicolo. Sì, sì. Ok, ok, ok. Sì, peccato che non sono lì. Adesso ti rivedo. Ok, ragiona. Esatto, come torno sempre? Non sono in alto. Probabilmente qui dietro. Ti vedo in questo momento, quindi sono nella via in cui tu sei. Ti ho mai visto, Steph. Dov'è? Qui dietro. Dov'è? Nella viola. No, Fede. È certo che ci fa una macchina qui. Eh, non lo so, magari ha fame. Allora, che arma posso usare contro di te? Sì, sì, tu scegli, eh. Dai, smettila. No, no, Steph. Steph. Steph, non scappare. Non scappare. A dopo, Fede. Dai, vieni qua a farti far esplodere. Tu devi nascondere, Fede, non perdere tempo. No, vieni qua, ti devo uccidere. Chi dorme non prende pesci. E tu non prendi bombe. Esatto, quello è l'obiettivo. Tocca a te, nasconditi. Forza, forza, forza. Fede, non era necessario. Sì, certo che era necessario. Ascolta, è la parte più bella del nascondino che mi hai sentito. Allora, corriamo a cercare un'auto. Ok. Allora, io mi attacco a questo bel muro, così. Perché c'è, Fede? Mi giro e ti becco volando nella via, vabbè, vabbè. Non posso? Non riesco a trattenere le risate. Ok, perché, Fede? No, no, no. Guarda, puoi chiuderla qui perché sarai umiliato talmente tanto che dopo questa ti vergognerei di giocare a novi nascondini. Allora, io ho controllato un attimino il timer, ok? E siamo a 48 minuti. Vediamo quanto ci metto a trovarti, Fede. Visto che sei tanto convinta, sei con un veicolo grande o piccolo? Piccolo. Giusto per capire le possibilità. Piccolo, piccolo. Ma io posso entrare anche qui, non è possibile. Dove? In qualunque vicoletto di qualunque palazzo. Per quello ti ho detto che è bello, perché è pieno di vicoletti. Infatti questa un po' ce la giochiamo a nasconderci, perché è bello. Va bene. Talmente sono tanti posti belli. Io mi sto incastrando. Dove sei incastrato? E mi incastro per entrare nei vicoletti per cercarti, perché potresti essere ovunque dato che sei super fiera. E quindi non so bene come fare. Allora, vabbè, io per adesso guardo in modo un po' superficiale tutto. Superficiale. Superficiale. E poi decido dove guardare un pochettino meglio. Però il mio radar, quando ci sono con tante possibilità, funziona davvero poco. Quindi sono abbastanza preoccupato. Allora, io sono qui. Da quanto? Quasi dieci minuti? Forse anche meno. Quattro minuti. Io non ho neanche visto Steph avvicinarsi, ma proprio zero. Cioè non sei neanche passato in questa zona. Quindi vuol dire che sei non messo male. Malissimo, Steph. Malissimo. Cosa vorresti insinuare, Fere? Che non mi troverai mai. Abbi il coraggio di dirlo. Che non mi troverai mai. Potrei essere d'accordo. No, questo è davvero bello. Forse è il migliore che abbiamo fatto. Ma io non avevo capito che la mappa che avevi preparato era così letale. Ascolta, è colpa tua. Mi fai fare prepara un nascondino con le auto. Io l'ho preparato. Ma mi hai visto? No. Perché io ti vedo. Davvero? Davvero non mi hai visto? No. Eri troppo zitto. Ho detto, cavolo, mi hai visto? No, no. E ti dicevo, mi hai fatto preparare un bel nascondino con le auto. Proprio con questa voce. E io l'ho preparato. Mi sono andata da fare, l'ho fatto. Però, diciamo, che col mio silenzio non volontario, che era dovuto semplicemente al fatto che ero un pochettino interessata a guardare meglio la zona. Secondo me ti sei autofregata. Dici? Auto? Beh, inteso perché sei in un'auto. Beh, è ovvio che sei in un'auto. Ma hai capito? No. Autofregata nel senso che ti sei fregata da sola. Però sei anche in un'auto e quindi ti sei fregata da... Hai capito? Non l'ho capita volutamente perché era molto brutta, quindi... Però, io non ti vedo. E questo... E quello è il trucco, Steph. Questo è un problema, Fer. Questo è un problema. Cioè, ma tu mi vedi ancora? Più o meno, più o meno. Perché adesso mi sta di no. Cioè, io non ho molta visione da dove sono. Hai un pochettino capito dove sono. Sì. Prevalentemente. Sì, 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 sì. Ok. Ok. Ok, vabbè. Credo di poterti trovare perché teoricamente, guardando dall'alto, non c'è proprio cosa che mi può suggerire. Teoricamente. Teoricamente. Ma non è che sei dentro questa palma? Non credo, non credo, non credo. Fruga nelle palme, Steph. Vedi, se trovi qualcosa di bello. Io la tiro. Se esplode Fere. No, non esplosa Fere. Quindi non è da lì. Potrebbe ovviamente essere in questi vari parcheggi, ma non la sto vedendo, quindi non lo so. Io non so dove stai guardando. La più bella idea. Apri i consolini e sapranno dove sei nascosto. È il che mi dà ancora più fastidio perché staranno ridacchiando. Però, prima o poi ti trovo. Allora, Fere, mi dai un indizio? No, Steph. No? Voglio vederti impazzire. Vuoi essere così cattiva? Dai, Fere, ma io non ce la faccio. Ti giuro che non ci riesco. Questa volta, ti giuro, non capisco minimamente dove sei. Non credo che ti posso trovare in nessun modo possibile, immaginabile. Dai. Però, comunque... Quando mi hai visto? Circa 40 secondi fa. Volevo andare ancora più in alto. Scolta, non è possibile fare ancora. Non lo so, ma da qui ti avrei visto ancora di più. Ah, beh, sì, è vero. Perché io sono salita nel tetto, quindi sarebbe stato ben peggiore. Però era bello fare il nascondiglio. Ci ho messo una vita a salire. Lo immagino. Ci ho messo una vita a fare quelle rampe di scale. Lo posso immaginare, Fere. Ok, hai fatto davvero un bel nascondiglio. Tuffo in piscina. Ok, sto bene. Allora, mi devo vendicare. No, devi fare un nascondiglio che sia comunque all'altezza di quello che io ho fatto. Addirittura, parli di all'altezza. Stai parlando con Steph. Molto bello. Cosa mi fare? Ci avrò messo tipo 10 minuti. Consolini, vi dico solo una cosa. Sta facendo notte. E abbiamo iniziato questa partita che era mattina. Pensate quanto ci ha messo Steph. Pensate. Ah, ci avrò messo circa 8 minuti, 10 minuti. Fai 15, Steph. E per di più la cosa che avevo d'occhiato, niente posso farla. Però vai lo stesso, Fere. Non c'è problema. Mi arrangio. Allora, quindi scommetto che ti sei infilato da qualche parte. In qualche posto molto nascosto. Molto strano perché... Però sei in movimento. Eh sì, perché speravo di riuscire a fare ciò che avevo pensato. Ma dai, neanche ce l'hai fatta. Era bellissimo. Non ha funzionato. Che disastro. Però mi arrangio, Fere. Mi arrangio. Sei tranquilla. Fatti gli affari tuoi. Penso a trovarmi. Eh sì, sì, sì. Io riuscirò a vincere questa partita in un modo o nell'altro. Fere, si sta facendo notte. Ma quanto giù mi mette? Sto cercando da due minutini. Fammi, dammi il tempo di controllare un po' tutta la città. Scusa, Steph. Allora, io ho fatto una tattica da stratega. Ok. Perché, dato che non ho trovato un bel nascondiglio, ho fatto il furbo. Ok, i consolini credo che hanno capito, perché stanno vedendo il mio schermo in questo momento. Quindi, credo che abbiano capito il mio nascondiglio. Vediamo un pochettino se Fere riesce a scoprire che cosa ho fatto. Però, secondo me, avrà parecchie difficoltà, perché non se l'aspetta una roba del genere. Non se la può aspettare. Quindi, vediamo un pochettino. Chissà dove è finita. Sto controllando. Ma mi hai visto? Non credo. Ho poca visibilità, poi, col fatto che è diventato notte, dato che mi cerchi da 40 minuti, sai. Sì, sì, sì. Eh, però, non lo so, anche dalla mappa non riesco a vederti, quindi non ti posso neanche, chissà, magari dare qualche indizietto. Ma anche perché se ti do un indizio, proprio, ta, e mi hai già trovato. Ok. Ok, quindi, devo giocarmela sul fatto che non ti aspetti che sono nascosto in questo punto. Non è che sei nel mio stesso nascondiglio? Cioè? Quello che ho fatto prima? No, ma come? Se non riuscivo mai a salire con la smart nelle scale... Magari lì ce l'hai fatta. Eh, no, Fere, no. Sono troppo scarso per riuscire a fare queste cose. È un po' bugiato. La grande Ferenichi ci può riuscire. C'è qualche nota di bugiardità nella tua voce. Qualche nota di bugiardità, addirittura. Bugiardità, sì. Secondo me c'è qualche nota di troll. Ok. Eh, anche. Ok. Però non è quello che tu pensi. Che cavolo stai dicendo? Eh, Fere, lo sai. Ogni volta che facciamo un video in nascondino su Instagram è sempre la stessa storia. Fere trollata, meme, screenshot. Sì, sì. Ne succedono sempre in tutti i colori. E anche questa volta non sei riuscita a scampartela. Mi dispiace. Mi dispiace. Cioè, io non mi diverto a farlo, eh. Sinceramente è un duro lavoro. Mi dispiace farlo. Però qualcuno lo deve fare. E quindi ogni volta va così. Comunque, sono già passati sei minuti. E ancora Feretina non mi ha trovato. Allora, sei in alto o sei in basso? In basso. Ok, quindi non sei salito in parti strane. No. Giuro che sono in basso. Ok. Almeno quello. Fere ti arrendi? No. Dai, arrenditi Fere. Non ce lo puoi fare. Ce ne andiamo a casa tutti insieme. Ci facciamo una merendina. Tranquilli. Festeggiamo il fatto che ho vinto come ogni volta. E siamo tutti felici. No, secondo me no. Non ti vuoi arrendere? No. Sei sicura Fere? C'è ancora un sacco di tempo. Quindi ti posso trovare. Mi vuoi lasciare 27 minuti qua fermo? Sì, esatto. Esatto. Ma sei pazzo? Fere, ti prego. Finché non ti trovo. Ti prego, un attimino. Pensa con sali in zucca. Ok. E capisci che non puoi fare una cosa di genere. Arrenditi e ce ne andiamo a casa. Io mi arrendo. Sì. Ce ne andiamo tutti via. Tutti felici. E io ho vinto. Non ripetere le mie stesse frasi. Non ci provare. Tu che vuoi giocare a sto gioco? Guarda, adesso ti faccio capire cos'è. Così automaticamente sei obbligata ad arrenderti. No, no, no. E ho vinto. No, no, te lo vedi. Non ti ascolto. No, devi ascoltarmi. Se parli urlo, eh. Bene. Se parli urlo. Se parli urlo. Secondo me sei in questo parcheggio. Allora, sono... Sei in uno di questi parcheggi. Quindi adesso ti scopro. Ma dove? Può essere. Che magari fa totalmente schifo che alla fine ti sei parcheggiato da qualche parte. Vediamo. Non si vede un accidente, Stefano. Non si vede nulla. Ai, ai, ai. Affere, mi distrugge. Allora, sono... In un... Alla, alla. Ti sento. Perché sei qua? Non ho nascosto qui tutto il tempo. Sì, ma praticamente ci sono posate una volta io qua. È talmente brutto che chi è che va a pensare che ti metti dentro al cinema? Anche perché dovessi iniziare la partita. Capito? La tana del nemico non te l'aspetti mai. Ma certo. Ma ripeto, è talmente brutto che chi è che... Cioè, io adesso mi aspettavo qualche vicoletto. Cioè, ti giuro che ho guardato tutti i vicoletti esistenti della mappa. Il lungo e largo cortili garage. Ho salito garage a tre piani pur di trovarti. E tu me ne vai... Allora. Però aspetta. Sono una soluzione. Sono una soluzione. Ecco qua. Se lo meritava. Lo sappiamo tutti che se lo meritava. Però in mia difesa io ti ho detto... Ho fatto un nascondiglio furbo. Non ho fatto un bel nascondiglio. No, se mi avessi detto... Ho fatto un nascondiglio terribile... Che più brutto di così non si può... Probabilmente ti avrei trovato in due minuti. È furbo. Invece io... Io mi aspettavo anche qualcosa di molto intelligente. Ho girato in lungo e largo tutta l'accidente di mappa. Basta. Ciao, Fere. Ecco perché non li facevamo più i nascondini con le auto. Adesso lo capisco, lo capisco. Alla prossima. Bene ragazzi. Lasciateci un bel like. E se ne è la prima volta che vedete il nostro video... Potete considerare l'idea di iscrivervi... Per riferirvi gli altri episodi. Ciao. E alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.